Caro Andrea, benvenuto a Riccione. Grazie. Serenity è uno dei titoli di Lucky Red. Rappresenta anche lo stato di salute e di umore che avete in questo momento? Serenity? Sì. È un thriller, ci piace, siamo un po' in epoca di cambiamento perché un po' di suspense ci sta bene. C'è un triangolo amoroso. Anche noi abbiamo dei triangoli amorosi tra distribuzione e produzione. C'è un grande cast, c'è un grande autore. Insomma, sì, c'è Steve Knights che è regista, sceneggiatore, che è stato anche autore di Lucky. C'è una storia con un colpo di scena finale inaspettato, per cui ci piace molto. Non ci piace prevedere come va a finire. Ok. Allora, intanto grazie per Woody Allen perché, insomma... Finalmente esce, 3 ottobre, un giorno di pioggia a New York. Sì, siamo contenti. Anche perché ci sono sempre persone che dicono, eh ma non è più quello di una volta. Beh, guarda, questo è un film che un po' ti riconcilia perché è tornato a New York, è tornato nella sua amata Manhattan. Ha quel tono lì, ci sono quelle battute scoppiettanti, ci sono dei giovani che vanno per un weekend a New York, che sono Timothée, Chamalet e Elphanning. Ci sta un po' di ingenità, di coffagine. Cioè, c'ha quel sapore dei suoi classici. L'ho incontrato pochi giorni fa, sono andato a Milano a vederlo suonare il clarinetto e finalmente l'ho incontrato. Ho potuto stringergli la mano e dirgli che ero felice di far uscire il film. E che cosa ha risposto? Beh, lui, ho detto, guarda, il film sono contento che esca e merita di uscire e anche lei merita che questo film venga visto in Italia e che abbia successo. E lui ha detto, sono qui a disposizione, posso, tutto quello che posso fare per promuoverlo sarà, sarà, do la mia disponibilità. C'è qualche altro titolo, tutti probabilmente, ma uno sopra gli altri che ti rende orgoglioso di averlo? Ma mi ha molto colpito a Cannes, I miserabili. Anche questo film di questo giovanissimo regista che si chiama La G, un film ambientato in una periferia parigina, molto attuale, molto su quello che stiamo, sulla complessità della società che viviamo. È veramente sorprendente, pazzesco. E delle conseguenze di questa società complessa in cui viviamo, veramente molto forte, molto bello. Un altro film che mi ha colpito molto, che mi piace molto, è The Aeronauts, gli aeronauti, che è una specie, io lo definisco, gravity in mongolfiera. Con due grandi attori che sono Eddie Redmayne e Felicity Jones, che tornano insieme dopo La Teoria del Tutto. Ed è la storia di un uomo visionario, scienziato, che voleva fare questa impresa in mongolfiera per scoprire gli effetti del meteo. E allora veniva considerato come un cretino. E questa ricca vedova che finanzierà la sua missione e che farà questo viaggio con lui. Spettacolare. Pazzesco, il meteo è quasi la cosa più cercata in assoluto. Esatto, esatto. Lui dice, facendo questo, andando su nel cielo potremo prevedere e capire come funziona. A cosa servirà? E tutti gli dicono, questa è una cosa da stregoneria, da veggenza. E poi continua la partnership con Universal. Continua la partnership con Universal, loro avranno quest'estate un film con Jennifer Lopez, che si chiama Titolo provvisorio è Hustler. Sono un gruppo di spogliare liste che a un certo punto decidono di approfittarsene di questi viziosi ricconi di Wall Street. E poi abbiamo Attacca al Potere 3, sempre con loro, con Gerard Butler, ormai una saga consolidata di grande successo. Poi avremo un film di animazione che si chiama Pupazzi alla riscossa, Ugly Dolls, che parla di questi pupazzi, queste bambole difettose che vivono in un mondo a parte. Questo è in qualche modo un film inclusivo sull'accettazione, sul fatto che ognuno è speciale proprio perché è diverso dall'altro. Va bene, ci fermiamo in Bocca Lupo, ci vediamo in sala e poi comunque al prossimo appuntamento di incontri professionali. Va bene, a presto. Grazie. Grazie. Arrivederci.